buongiorno viaggiatori in questo video finalmente a grande richiesta faremo una cosa che era già un po che dovevamo fare faremo la nostra recensione della tenda james baroud odyssey allora cominciamo intanto con due cose due informazioni la james baroud è un'azienda portoghese a sede a porto e la cosa ganza di questa azienda già in partenza il fatto che nasce la concezione di questa tenda da tetto nasce dall'idea dei titolari che sono dei viaggiatori quindi sapete benissimo che un conto è la teoria un conto è la pratica e questa è una cosa già che ci è piaciuta molto e seconda cosa che ci è piaciuta molto è il fatto che la ditta james baroud produce tutto all'interno della sua azienda qualunque cosa è fatta da loro quindi dallo stampo del guscio all'ultima vitina alla cerniera non ci sono prodotti cinesi non ci sono prodotti che provengono da altri concorrenti di altre nazioni fanno tutto direttamente nella loro azienda è chiaro che questa cosa alza i prezzi ma alza anche la qualità e quella è una cosa che noi cerchiamo in viaggio la nostra tenda è stata acquistata dall'unico rivenditore che abbiamo qua in italia che è la trailer point outlet di venezia ve la consigliamo a occhi chiusi perché sono dei ragazzi in gambissima è un'azienda che sul mercato da più di vent'anni il loro azienda praticamente si occupava all'inizio di rimorchi di tutte queste cose comunque che riguardavano il 4x4 tutto venuto fuori da un viaggio pazzesco che i titolari samuel e sarah hanno fatto in australia e da lì è venuto fuori si è aperto questo mondo delle tende da tetto quindi sono diventati gli unici rivenditori ufficiali in italia hanno un magazzino fornitissimo perché la james barwood ci hanno detto gli impone degli standard a livello anche di spazio espositive di magazzini veramente elevati e questo però fa sì che qualunque cosa voi volete è sempre a disposizione nel loro magazzino nel loro nel loro rivendita troverete qualunque cosa e detto questo cominciamo a dirvi però due caratteristiche a farvi vedere la tenda allora la tenda noi l'abbiamo acquistata nel periodo invernale adesso siamo a primavera abbiamo fatto questa recensione abbiamo aspettato un po perché come sapete non è nel nostro stile comprare una cosa e poi subito partire a bomba facciamo la recensione no perché le cose vanno sperimentate c'è da capire i lati positivi i lati negativi e poi a quel punto uno può fare un video onesto di quello che sono le nostre impressioni su questa tenda quindi intanto cominciamo a farvela vedere però questa è la tenda già aperta allora praticamente caratteristica della tenda la tenda un guscio in abs riflettente alla gv praticamente è resistente sia alle bassissime che le altissime temperature proprio per come è fatta viene data fino a zero gradi quindi senza problemi non ci dovete aggiungere niente niente cappotti termici niente di niente praticamente la cosa particolare che adesso vi faccio vedere a questo telo intanto partiamo subito da una cosa noi come sapete le cose ci piacciono un po modo nostro per cui è questa che vedete subito per specificarlo non è la scala che viene data in dotazione perché la scala è una scala in alluminio che potesse tranquillamente riporre nella tenda e tutto quanto a noi non fa il caso nostro non fa il caso nostro perché noi preferiamo la tenda a pacchetto quindi è stata fatta semplicemente questa modifica abbiamo preso diciamo gli inserti li abbiamo tolti dalla tenda originale li abbiamo messi quali abbiamo applicati a questa perché praticamente la scala si attacca qua nelle sedi che sono sia da questa parte che dall'altra parte quindi potete a due ingrassi tranquillamente e quindi questa è una modifica che noi abbiamo fatto adesso però una cosa che vi voglio far vedere innanzitutto è questa andando sul tetto vedete praticamente quella la che è la il il pannello solare che ricarica la ventolina che c'è dentro che serve appunto per eliminare eventuali problemi di condensa ci sono poi la possibilità di avere degli attacchi potete mettere i pannelli solari sopra la tenda perché è predisposta già per questo una novità particolare proprio di questa tenda è il fatto che nel guscio inferiore ha quattro corsie in alluminio questa innovazione è stata fatta per permettere che la tenda si possa adeguare praticamente a qualunque tipo di barre a qualunque tipo di di supporto quindi per poter andare bene su qualsiasi mezzo questa è una grande idea noi che è una domanda che ci viene fatta spesso abbiamo messo per essere tranquilli quattro barre le vedete qua uno due tre quattro e danno una grande stabilità alla tenda sono perfette comunque diciamo che anche tre barre vanno benissimo noi abbiamo esagerato adesso parliamo però del telo anche il telo della tenda differisce dalla precedente serie evo perché ha una particolarità è stato totalmente rinforzato infatti come potete ben capire è una stoffa molto resistente è alluminizzato le zanzariare sono anch'esse non si tirano assolutamente i fili sono veramente ben fatte e tutto questo è stato concepito proprio come vi dicevo perché la tenda può arrivare tranquillamente a zero gradi senza problemi e senza bisogno di altri accessori un'altra particolarità è anche questa il telo della tenda è composto da diversi pezzi quindi non è un pezzo unico che gira tutto intorno e questo perché per far sì che se ci fosse un problema una sostituzione un qualcosa da fare praticamente la tenda si può dividere diciamo in parti quindi una fascia è staccabile piuttosto con altra parte interna parte destra sinistra quindi è formata da più pezzi in modo che anche a livello economico se non avesse un problema si cambia solo un pezzo della tenda e non tutta cosa non da poco ma adesso entriamo per vedere la meraviglia innanzitutto le porte hanno tutte questi troppo veramente robusti la cerniera laterale una di qui e una di là che consentono con la chiusura praticamente ermetica di non far entrare polvere animali o altre cose ma andiamo dentro allora ho lasciato volutamente le finestre chiuse perché un'altra particolarità che ha questa tenda adesso io sono qua nel mezzo per cui è chiaro che un minimo di luce entra però per chi ha problemi che non riesce a dormire perché magari entra la luce o altre cose ecco non vi dovete porre nemmeno questo problema perché la caratteristica di questa tenda che una volta completamente chiusa è total black quindi dentro non vi arriva neanche un filo di luce questo non è un problema che ci riguarda perché noi dormiamo con tutte le finestre aperte però per chi avesse questo problema c'è anche questa innovazione altra cosa domanda che ci viene fatta spesso ma in caso di pioggia la tenda poi la richiudete si bagna tutto all'interno no perché questa tenda è stata progettata appositamente per essere chiusa anche con tutte le porte chiuse perché perché è stata dotata vi faccio vedere qua ce ne sono quattro è stata dotata di questi quattro sfiati che praticamente consentono ce n'è uno per ogni angolo della tenda consentono all'aria di uscire quindi la tenda può essere chiusa senza nessun problema con praticamente tutte le porte chiuse e questa è una bella innovazione perché quando capita il momento della pioggia e potrebbe essere un problema un'altra cosa comodissima di questa tenda è il materasso materasso completamente sfoderabile con tutto il logo vedete james barood sfoderabile tutta questa parte è lavabile allora il materasso è un materasso d'alta densità eccolo qua è veramente stra comodo noi sotto abbiamo questa non è fornita nel prezzo ma la dovete comprare a parte abbiamo messo la rete anticondensa e questa è una cosa che vi consigliamo sempre perché consente di tenere praticamente un isolamento tra il materasso e il fondo della tenda ma passiamo al pezzo forte la vera meraviglia di questa tenda è il motivo poi per cui l'abbiamo presa che ci è piaciuta un sacco è il fatto che una tenda super panoramica adesso vi faccio vedere la tenda tutta aperta in ogni angolo sono presenti queste cerniare lunghissime che praticamente consentono un'apertura totale della tenda allora iniziamo a dire subito una cosa e voi vi domanderete ma perché mi allora lì per questo motivo qua se state venendo adesso io sto aprendo completamente la tenda dai a una cerniara unica il problema qual è che se io voglio volessi ipoteticamente solo uno spicchio della tenda aperta quindi che ne so solo questa parte sono obbligata per forza ad aprire tutta perché la cerniara è unica ecco questa è una cosa che secondo noi poteva essere risolta diversamente nel senso mettendo una cerniara sia diciamo da questa parte che dall'altra parte in modo da consentire un'apertura un pochino più differenziata perfetto che il telo sia unico ma magari più diciamo fruibile avere due cerniere comunque una cerniera in più in sostanza il sollevamento a pistoni che sono questi è dotato anche di un sistema di blocco molto semplice così la tenda è bloccata e così è sbloccata questo è fatto per ogni sui quattro pistoni molto pratico noi abbiamo visto anche che con forte vento non c'è il minimo problema quindi questo perfetto una bella novità di questa tenda è questa che adesso vi faccio vedere c'è un grande finestrone nella parte diciamo dove si dorme vedete questo è praticamente questa finestra in plastica il che consente anche di che ne so nei momenti più freddi di poter stare tranquillamente in tenda avere la visuale quindi magari il resto delle finestre chiuse ma poter vedere il panorama circostante grazie a questa finestra e questa è senz'altro un'innovazione molto ben fatta l'unico appunto diciamo che ci sentiamo di fare per l'utilizzo che ne facciamo noi è che magari poteva essere pensata che questa tenda questa finestra si aprisse anche perché come vedete è una finestra fissa quindi questa nel caso l'apertura si fa solo così da questa parte volando può essere anche un'ulteriore entrata ma poteva essere carino pensare di non so con una cerniera di poter comunque togliere quella parte della plastica di rimanere solo con la zanzariara questa diciamo così piccola nota continuiamo con le caratteristiche ci sono due taschine laterali una a destra e una a sinistra per riporre gli oggetti piccoli tipo chiavi insomma cellulari queste cose qua e per quanto riguarda la parte sopra c'è la classica rete dove si possono mettere i vestiti il tablet insomma per guardarsi i film ah altra cosa da non sottovalutare che è veramente ben fatta è questo cielo di un colore azzurro che è veramente fantastico qua proprio della parte dove si dorme diciamo lato testa c'è la famosa ventolina che vi facevo vedere prima alimentata con una batteria che funziona col pannello solare è veramente silenziosa per cui la potete tenere accesa anche mentre dormite e serve appunto per estrarre l'aria dalla tenda la ventolina ha il pulsante all'interno vedete basta infilare il dito qua giù dentro c'è un pulsantino si schiaccia e parte questo per farvi sentire il rumore sempre nella dotazione della tenda abbiamo questa pratica lampadina la caratteristica è il fatto che può essere anche tolta per cui tranquillamente ve la potete portare in giro per poi rimetterla qua al suo posto a questo pulsante e da qui praticamente si regola nei vari tipi di luce quindi ecco qua lampeggiante insomma ci sono tre o quattro selezioni possibili e questa è una cosa pratica perché si prende si porta in questo momento stiamo dando aria alla casa la tenda è completamente aperta e vedete la luce che entra è una cosa fantastica mi ero dimenticata di darvi le indicazioni della grandezza quindi lo spazio reale per dormire allora il materasso è lungo due metri lunghezza largo 1 e 40 state comodamente in due vi ribadisco che il materasso è veramente una favola dormite da sogno e questa è veramente una bella cosa l'altra particolarità di questa tenda sono questi binari che vedete corrono per tutto il profilo della tenda allora questi binari e servono praticamente per attaccare gli eventuali ulteriori accessori che in questo momento non sono ancora in commercio comunque questo è il suo scopo ecco c'è da dire che questo qui potrebbe essere anche uno dei punti un pochino più deboli se così vogliamo dire per quanto riguarda la condensa quindi personalmente a noi quando ci è capitato di trovare un minimo di condensa l'abbiamo proprio trovata su questi profili ma è veramente una cosa ecco con un pannetto di cotone facilmente dissolvibile quindi è solo in questo punto perché chiaramente essendo alluminio per il resto no abbiamo controllato peraltro noi l'abbiamo utilizzata diciamo nel periodo più critico per le tende da tetto quindi il momento invernale quando fuori è freddo dentro a temperatura più alta e l'unica accortezza quella che diciamo sempre che vale per qualunque tenda da tetto è quello di lasciare sempre un pochino le finestre aperte può sembrare un paradosso quando è freddo ma in realtà questo consente che noi con il nostro respiro praticamente altrimenti l'ambiente si riscalderebbe troppo e si forma la famosa condensa invece con un scambio un giusto scambio di aria dall'esterno questo ci permette di avere veramente un minimo di condensa proprio nella stagione peggiore quindi vi ribadisco è stata trovata condensa proprio per essere completamente diciamo trasparenti solo in questi punti qua rispondiamo a un'altra domanda che ci viene fatta spesso se la tenda si può chiudere con dentro cuscini più o meno eccetera eccetera assolutamente sì noi la chiudiamo con dentro quindi cuscini lenzuola la rifacciamo come un normale letto di casa e poi si abbassa tutto e si chiude quindi letto sempre pronto in un minuto unica accortezza da avere prima della chiusura della tanda chiaramente di riporre nel centro cuscini piumino e tutto quanto perché ci sono i pistoni per cui per agevolare la chiusura e non lasciare niente nel mezzo ecco fatto quindi semplicemente basta tenere sgombro diciamo questa parte la nostra recensione riguarda praticamente sono il periodo di effettivo utilizzo che è stato il nostro ancora andrà sperimentata nella stagione più calda quindi con temperature più alte non sappiamo ancora come reagirà ci auguriamo bene e ve lo potremo far sapere magari in un'ulteriore recensione per quanto riguarda la versione estiva per il momento siamo molto soddisfatti della tenda della qualità del tessuto del materiale veramente di tutto siamo molto soddisfatti vogliamo spendere giusto due parole anche sul tipo di assistenza che ci è stata fornita dai rivenditori dai ragazzi della trailer point di venezia perché è veramente una squadra spettacolare rarissimo da trovare un'attenzione al cliente di questo tipo ci hanno veramente chiamato per sapere se c'erano problemi per qualunque cosa anche la minima sono stati pronti nel risolvere qualunque dubbio qualunque problema che ci potesse venire in mente quindi per questo le ringraziamo tantissimo non esitate a contattarli se avete bisogno di informazioni di vedere le tende dal vivo perché lì potrete vedere tutta la gamma james barood comunque per quanto riguarda questa veramente top ci vediamo ai prossimi viaggi ricordatevi di seguirci sul canale perché questa è solo una recensione ma poi viaggiamo e quindi saluti a tutti bacione alla prossima